Buongiorno, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnome d'Italia. Il problema dell'Aerosol è un problema esistente da sempre. Fino ad oggi il medico conviveva con questo problema, perché proprio l'altro ieri parlavo con un medico che adesso che porta la visiera si è reso conto di quanto Aerosol viene investito. Il scudo è una barriera invisibile creata con una lama d'aria. L'obiettivo nostro era quello di creare un prodotto semplice, silenzioso, con zero manutenzione e anche economico. Il scudo è composto da una testa, dove qui abbiamo la lama d'aria, un braccio flessibile che è calettato all'asta poggiatesta. Mettendo la testa a scudo su un braccio flessibile non ho problemi di intralcio intorno alla poltrona dentistica e soprattutto posso lavorare agilmente, ma anche l'assistente può lavorare agilmente. Il scudo è molto semplice. Prima di tutto non ha manutenzione. In secondo luogo consuma solo 16 millilitri al minuto di aria. e il terzo soprattutto ha una roburosità di soli 12 decine. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.